Un primo tempo giocato con i fiocchi e un secondo tempo che sancisce la buona forma fisica e l'ottima tecnica degli allievi della DGS De Giorgio. Contro l'Andreoli di Fuscaldo i rossoneri dell'Alto Tirreno Cosentino cacciano il meglio tenendo testa a una squadra che non ha fatto sconti. La scuola calcio di Fuscaldo non scherza e nel primo tempo si fa vedere in più occasioni ma la DGS ha saputo tenere testa e ha saputo reagire. Allo stadio Umberto Nappi di Tortora si è visto un bel calcio. Nel secondo tempo però i rossoneri entrano in campo più determinati e all'ottavo minuto ci pensa Intrieri a mettere in rete il primo gol. Il raddoppio avviene dopo tre minuti all'undicesimo ed è opera di Silvestri che con una finezza batte il numero uno dell'Andreoli, Maio. La partita non è finita però e al diciassettesimo vansi il lotta che accorcia le distanze e riapre l'incontro. Ci vorrà il gol di Donato al trentacinquesimo per chiudere l'incontro e far sì che i rossoneri tirino un sospiro di sollievo. Termina 3-1 un bell'incontro in cui entrambe le squadre hanno dato il meglio di loro.